Buon pomeriggio, bentrovati in diretta dagli studi di Telebari. Questa mattina c'è stata la prima seduta del nuovo Consiglio metropolitano di Bari, in apertura dei lavori la convalida dei consiglieri eletti. Intanto sentiamo quali sono gli obiettivi del nuovo Consiglio in questa intervista al sindaco della città metropolitana, Vito Leccese. Innanzitutto l'obiettivo è quello di continuare a fare un lavoro di sinergia, un lavoro di squadra che possa consentire, come è successo in passato, a tutti i comuni. Parliamo di 41 comuni, compreso Bari, di avere le stesse opportunità di crescita. Tant'è che il metodo che si è utilizzato sino ad oggi e che io spero di poter proseguire con questo nuovo Consiglio metropolitano è quello di venire fuori dalla logica del campanile ma fare un gioco di squadra, anche puntando a un rapporto normale tra maggioranza e opposizione, pensando che in questo Consiglio metropolitano si deliberano iniziative importanti per crescere tutti insieme. Conferenza stampa del gruppo consigliare Romito Sindaco questa mattina a Bari per fare il punto sui recenti provvedimenti assunti dal primo cittadino Vito Leccese. Sentiamo. Noi intanto non comprendiamo quali sono i tre punti, le tre linee direttrici che ieri sono state solo annunciate in conferenza stampa e neppure condivise e soprattutto come ha detto il Consigliere Ciaula noi non comprendiamo questo continuo salto all'indietro, cioè sono stati spesi dei soldi dei cittadini baresi vorremmo comprendere a che titolo, per quale motivo e soprattutto che fine abbiano fatto quelle bozze di Pug. Così il Consigliere Comunale della Lega Bari Fabio Romito nel corso di una conferenza stampa indetta per presentare le iniziative dell'opposizione sia sul tema del Pug, il piano urbanistico generale sia su quello dell'ordinanza sindacale anti-movida al quartiere Umbertino. Presenti all'incontro tra gli altri il Consigliere di Fratelli d'Italia Antonio Ciaula, la Consigliera della Lista Romito Sindaco Valeria Moruso, i Consiglieri di Forza Italia Giuseppe Carrieri e Livio Sisto. Sul Pug il centrodestra barese parla di telenovela chiarendo che non ci tiriamo indietro per affrontare questo tema siamo pronte a realizzare i Pug con i nostri tecnici e dipartimenti per mettere in campo un progetto alternativo. Siamo a disposizione purché siamo presi in considerazione. Quanto all'ordinanza contro la mala movida invece l'opposizione in comune parla di norma vessatoria inutile e irragionevole perché dicono crea disparità di trattamento fra attività commerciali senza risolvere il problema perché la movida emigra in altri quartieri. Il centrodestra in questa città vuole dire la sua, nonostante come abbiamo detto più volte non abbiamo un numero di consiglieri comunali adeguato per una città come la nostra. Noi siamo pochi ma siamo assolutamente combattivi e decisi ad offrire alla città il nostro punto di vista. Oltre alla protesta il centrodestra ha offerto anche la proposta. Noi avremo una nostra precisa idea su tutte le materie che abbiamo trattato in questa conferenza stampa ma in generale sulla politica e la vita della nostra città. E adesso ci spostiamo in regione. Duro botte risposta tra Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia sul PNRR e i parlamentari pentastellati. Rai Perica Ventola. 113 miliardi e mezzo di euro già ricevuti destinati a salire a 122 con il pagamento della sesta rata. L'accusa di voler chiudere un'eventuale proroga della scadenza per l'uso dei fondi e polemica tra il Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia sulle risorse del piano di ripresa e resilienza. Raffaele Fitto alza la bandiera bianca. Nelle risposte alle domande scritte degli euro deputati in vista delle audizioni il candidato commissario europeo italiano chiude la porta a una possibile proroga della scadenza e l'accusa che arriva da due europarlamentari del Movimento la brindisina Valentina Palmisano e il catenese Gaetano Pedullà. L'Italia in forte ritardo nella spesa di questi fondi e finora raggiunto solo il 34% degli obiettivi europei affermano senza una proroga della scadenza fissata nel 2026 sarà impossibile utilizzare tutti i fondi europei ottenuti da Giuseppe Conte durante la pandemia. Il recentissimo rapporto annuale della Commissione europea sul PNRR e la replica che arriva dall'euro parlamentare di Fratelli d'Italia Francesco Ventola conferma il primato europeo dell'Italia per numero di obiettivi, riforme e investimenti realizzati e importo complessivo ricevuto. Altro che bandiera bianca prosegue ventola e senza l'impegno del ministro Raffaele Fitto per la coraggiosa opera di rivisitazione del piano probabilmente l'Italia sarebbe ancora ferma alle misure inattuabili e alle innumerevoli incongruenze contenute negli obiettivi inseriti dalla terza alla decima rata del vecchio PNRR. Ad oggi il governo, gli enti locali, i soggetti attuatori e tutte le istituzioni preposte hanno l'obbligo di concentrarsi sull'attuazione del piano che vede il dato sulla spesa in costante aumento pari a circa 55 miliardi al 31 agosto 2024, conclude Ventola. Il 2026 del resto è la scadenza che incombe su tutti i prossimi mesi e diranno se l'Italia sarà in grado di impiegare tutte le risorse. E adesso torniamo a parlare dei lavori per la fogna bianca carbonara. Le caditoie in pietre appena installate già sono state danneggiate al solo passaggio delle auto. Sentiamo. Io sarò anche ignorante, ma le grate di pietra dove passano le macchine, guardate, lavori appena finiti, le grate di pietra, qualcosa che non riesco manco a capire, guardate, cioè rotta già. Le immagini arrivano dal quarto municipio, la voce quella di un esercente della zona, i lavori quelli per la fogna bianca destinati a migliorare la situazione in caso di piogge. Continuano le polemiche sui lavori in corso in piazza Umberto I a Carbonara. Questa volta sotto accusa ci finiscono le caditoie per l'acqua appena installate ai margini della strada che gira attorno alla piazza. Le stesse che dovrebbero far cadere l'acqua all'interno delle condotte per favorire il deflusso delle acque meteoriche in presenza di eventi atmosferici. Inizialmente erano stati scelti normali tombini in metallo, ma a quanto pare la sovrintendenza avrebbe richiesto l'installazione di caditoie in pietra, più in armonia con il basolato del centro storico. Il problema però è subito emerso appena le auto hanno ripreso possesso della strada, con i pezzi in pietra che si sono immediatamente danneggiati sotto il peso delle automobili. Dal resto molte perplessità erano emerse sia per l'inadeguatezza in riferimento all'utilizzo su percorsi carrabili, che rispetto all'efficacia drenante di questo tipo di soluzione. L'amministrazione dovrà trovare la quadra con la sovrintendenza, considerato però che la prossima settimana arriva la festa patronale di San Michele e per l'occasione dovrà essere liberata completamente l'area di cantiere. E adesso ci colleghiamo con Silvia Di Pinto per tutti gli aggiornamenti dal nostro sito www.telebari.it. Silvia, buon pomeriggio, cosa ci racconti? Buon pomeriggio Cristina, è di due feriti in codice giallo il bilancio del grave incidente che è avvenuto questa mattina intorno alle 9 lungo il tratto barese della strada statale 16. È successo all'altezza di Torre a Mare in direzione nord poco prima dell'hotel Barion, dove un'auto si è ribaltata dopo l'impatto con un altro mezzo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le ambulanze del 118, importanti le ripercussioni sulla viabilità con lunghe code e rallentamenti. E a proposito di statale 16, la Regione Puglia scrive al Ministro Salvini per chiedere il commissariamento degli interventi sulla 16 e sulla 100. Nello specifico, il Presidente Michele Emiliano e l'assessora Deborah Ciliento hanno inviato una nota per chiedere la nomina di uno o più commissari straordinari per la realizzazione di tre interventi strategici. Nello specifico, c'è anche la famosa variante della statale 16 nel tratto compreso tra Mola e Bari. Chiudiamo ancora con la cronaca per l'assalto allo sportello Bancomat Unicredit avvenuto in via Bruno Buozzi questa notte intorno alle 4.30 a Bari. I ladri hanno preso di mira lo sportello della banca, il bottino è ancora da quantificare, sul posto sono intervenute prima le volanti della polizia e poi la scientifica. Per le indagini saranno acquisite le immagini delle telecamere di video e sorveglianza che serviranno ad aiutare gli investigatori oltre ai rilievi. Questo e altro ancora sul sito www.telebari.it Grazie Silvia, grazie per il tuo contributo. E questa mattina nella Biblioteca della Rianimazione del Policlinico di Bari la consegna di due poltrone letto donate dall'associazione Famiglie SMA. Il servizio. Famiglie SMA tra musica, beneficenze e solidarietà. Questa mattina nella Biblioteca del Padiglione della Rianimazione del Policlinico di Bari si è tenuto un incontro con la stampa per la consegna di due poltrone letto donate dall'associazione Famiglie SMA. Abbiamo sviluppato questa collaborazione insieme ad altre associazioni che ci hanno aiutato nell'arrivare a questo risultato. Poi l'obiettivo ovviamente è dedicato ai pazienti SMA, ma non solo. Anche a tutti i pazienti che hanno esigenze specifiche e che prendono loro. Che necessità di avere attanto nel percorso di pura, in un momento così delitato, come poi l'appunto di un'accesso in terapia intensiva, di avere attanto il proprio caregiver durante tutto il percorso che porterà ovviamente alla bariglione. Noi sappiamo che il caregiver, soprattutto nei casi di pazienti particolarmente fragili, in questo caso di malati di SMA e anche di altre patologie neurodegenerative, è importante la presenza del caregiver. Quindi se c'è necessità per esempio di ricovero, come a volte avviene nella rianimazione, quella del Policlinico, del Professor Grasso, dove siamo adesso, è il riferimento per questo tipo di ricoveri, per questo tipo di pazienti, è opportuno che il caregiver sia il possibile vicino al proprio paziente. E adesso le notizie dall'area metropolitana e dalla regione. Andiamo a Foggia, dove dopo l'ultimo tentativo di rivolta da parte dei detenuti torna la tensione in carcere. I sindacati gli chiedono un impegno concreto alle istituzioni. Nicola Saracino. Torna la tensione alla carcere di Foggia dopo l'ultimo tentativo di rivolta da parte di alcuni detenuti che hanno sfondato i cancelli di alcuni reparti usando letti e carelli come a rieti. Una situazione di difficoltà che si riflette nei numeri. Il penitenziario Foggiano ha attualmente 700 detenuti per una capienza di 310. La polizia penitenziaria negli ultimi due anni è scesa di 100 unità e attualmente ci sono 190 agenti presenti, con il risultato che un singolo agente si trova anche a vigilare se riparti contemporaneamente. Foggia ha necessità urgente, impellente, di avere almeno 80 unità della polizia penitenziaria maschile. Se noi non offriamo questo a Foggia non potremo mai raccontare in bene o in male quello che è accaduto durante il Covid con la rivolta ai 75 vasi. Noi continuiamo a dire va bene vi aiutiamo, siamo vicini alle forze di polizia, siamo vicini al comparto sicurezza, alla polizia penitenziaria, ma questa vicinanza noi non l'avvertiamo. Una situazione di alta criticità che riguarda tutta la Puglia dove attualmente ci sono quasi 4 mila detenuti nei 12 istituti penitenziari. Condizioni al limite della viabilità su cui serve un impegno maggiore anche della politica, come chiedono i sindacati. Ho necessità di dare delle risposte alle famiglie degli agenti della polizia penitenziaria che sanno quando escono la mattina ma non sanno se alla sera si ritirano a casa. Si è parlato di disagio giovanile, benessere, mentale e prevenzione questa mattina nel liceo. Federico II di Svevi ad Altamura, il servizio di Roberto Maggi. Ansia, depressione, problemi adolescenziali, condividere le proprie esperienze e capire come comportarsi. Il disagio giovanile, benessere, mentale e prevenzione è il tema al centro di un appuntamento organizzato dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata ad Altamura con i ragazzi del liceo Federico II di Svevia. Soprattutto in età adolescenziale infatti emergono quelle problematiche a volte invisibili che possono condizionare la vita di un ragazzo. Una questione che non ha lasciato indifferente la Banca Popolare di Puglia e Basilicata che da tempo investe in iniziative dedicate ai più giovani, come per esempio il progetto Itaca che dal 1999 ha raggiunto 17.000 ragazzi in tutta Italia. Il ruolo della nostra banca è quello proprio di cercare nelle scuole di creare questa contaminazione e con le aziende che siano pubbliche e private cercare di essere l'esempio per cercare di creare queste situazioni di dialogo, di confronto con i giovani. 30 anni fa, 35 anni fa la malattia mentale o il disagio psichico non solo non veniva riconosciuto ma non se ne parlava come una cosa di cui vergognarsi, c'era uno stigma e un pregiudizio molto forte. Non è che il problema sia stato risolto completamente, però oggi c'è maggiore apertura, maggiore anche conoscenza. Fondazioni come quella del progetto Itaca possono fornire un supporto attraverso una linea d'ascolto dedicata, telefonica e online, ove necessario altrimenti è opportuno rivolgersi al personale specializzato. Cambiamenti repentini del tono dell'umore, anche oscillazioni che si possono verificare durante l'arco della giornata, un difetto costante dell'attenzione, della concentrazione, una difficoltà di socializzazione. Qualora ci si dovesse rendere conto che sono presenti questi aspetti, ma soprattutto che sono presenti in maniera continuativa, prolungata e che hanno un impatto sul funzionamento quotidiano, allora occorre chiedere aiuto. Educare al futuro a Taranto un cammino condiviso per un domani sostenibile. L'incontro si è tenuto al circolo ufficiale della Marina Militare, il servizio di Angelo Ingenito. La scuola deve creare opportunità di progresso per tutti. Questo è l'obiettivo che desideriamo far conoscere e diffondere tra i cittadini. Per questo motivo ho ideato Scuola Futura, un'iniziativa che porta la scuola direttamente nel territorio e tra la gente. È fondamentale restituire autorevolezza ai docenti. Sarebbe auspicabile riuscire a dare nuovo significato e valore a questi ruoli cruciali nella nostra società. Così ha dichiarato Giuseppe Valditara, ministro dell'istruzione e del merito, in collegamento da Roma, durante l'incontro Educare al futuro un cammino condiviso per un domani sostenibile. che si è svolto presso il circolo ufficiale della Marina Militare. L'evento organizzato da Fonarcom, insieme a SNALS, CIF e COMSAL, ha avuto come obiettivo quello di promuovere il dialogo tra istituzioni, esperti e rappresentati del mondo dell'istruzione e del lavoro, al fine di individuare percorsi condivisi che possano guidare le nuove generazioni verso una maggiore consapevolezza ambientale e sociale. Il futuro si costruisce attraverso una programmazione precisa, una programmazione del vivere sociale, agendo proprio nella scuola. E così possiamo pensare a un futuro sostenibile. Sostenibile non soltanto come comunemente si pensa a sostenibilità con la tutela dell'ambiente, che è uno dei principi sacrosanti, ma sostenibilità significa progettare, curare, pensare, costruire. Ecco, questa è la sostenibilità. In questo momento in cui sia le imprese che i lavoratori sono impegnati nell'affrontare questa sfida che noi chiamiamo sviluppo sostenibile, cioè uno sviluppo che tenga conto delle transizioni sia digitali che ambientali, è chiaro che ciò rappresenta sia per le aziende sia per i lavoratori un impegno non indifferente. Stanziati dall'Aggiunta regionale pugliese 1,3 milione di euro per la somministrazione dei vaccini anti-influenzali nelle farmacie convenzionate, ci dice tutto Maricla Pastore. Anche per questa stagione la vaccinazione anti-influenzale potrà essere effettuata in farmacia. La novità emerge dall'ultima riunione dell'Aggiunta regionale della Puglia. Da lungomare Nazario Sauro arriva infatti lo stanziamento da 1 milione 300 mila euro per l'allargamento della rete vaccinale nell'ambito dell'accordo regionale sulla farmacia dei servizi tra Regione Puglia, Federpharma, Assofarm e consulta regionale degli ordini dei farmacisti per la campagna vaccinale 2024-2025. Il coinvolgimento delle farmacie di comunità concorrerà a incrementare il livello di copertura vaccinale nella Regione Puglia, potendo contare su una rete di presidi sanitari capillarmente diffusa su tutto il territorio regionale e sul supporto della rete dei distributori intermedi per le attività di logistica. Le ASL provvederanno invece a fornire i vaccini necessari. Nelle scorse settimane, lo ricordiamo, era stata avviata la campagna con i dipartimenti di prevenzione che avevano predisposto tutto il necessario per chiedere la somministrazione del vaccino al proprio medico di famiglia, al pediatra o negli ambulatori vaccinali delle ASL. Solo per l'azienda sanitaria di Bari era stata avviata la distribuzione di 310.000 dosi. Gli operatori sanitari, gli adulti anziani dai 60 anni, le donne in gravidanza, le persone con patologie di base e i bambini dai 6 mesi ai 6 anni sono considerate le categorie maggiormente a rischio a cui somministrare prioritariamente il vaccino antinfluenzale. È possibile inoltre effettuare la cosomministrazione dei nuovi vaccini aggiornati anti-Covid-19 con altri vaccini e in particolare con quello antinfluenzale. E per questa edizione del Telegiornale è tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento. Un saluto ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì l'Italia resta contesa da un lato da un campo di alta pressione che rimane posizionato sull'Europa orientale, ma nel contempo una saccatura atlantica tenderà ad approfondirsi sul Mediterraneo occidentale e ad avvicinarsi al nostro paese. Vediamo quindi più nel dettaglio la situazione dal punto di vista delle precipitazioni c'è questo flusso di correnti umide e miti meridionali che trasporta molta nuvolosità e ancora delle piogge sparse, soprattutto al centro-nord. Infatti osserviamo il tempo che ci aspetta nella giornata di venerdì che sarà nel complesso soleggiato al sud e su parte del medio versante adriatico decisamente più nuvoloso altrove con precipitazioni sparse da deboli a moderate sull'alto versante terrenico e su parte del settentrione con temperature che di fatto restano al di sopra delle medie al nord fino a 18-20 gradi le massime fino a 24-25 gradi al sud. Ma per maggiori dettagli continuate a seguirci sull'app di Trabi Meteo.